il cammino più difficile che puoi intraprendere è quello che fai da solo ma quello è il cammino che ti renderà il più forte questo è il cammino che forgerà la tua personalità il lupo sulla collina non è mai affamato come il lupo che si arrampica sulla collina non è facile farlo da solo ma se continui rimarrai fedele a te stesso ma alla fine ne sarà valsa la pena il cammino più difficile che puoi fare è quello che farai da solo ma è quella la sfida è quello che ti rende più forte nel cammino che riesce a costruire il tuo personaggio tutti noi combattiamo battaglie da soli tutti noi siamo in opposizione al male ma dobbiamo restare forti e non arrenderci devo restare forte andare avanti essere forte continua così questo cammino è dura ma i percorsi più difficili portano alle destinazioni più grandi le salite più dure portano sempre alla scoperta di panorami meravigliosi ne varrà la pena alla fine e se mostri a te stesso di cosa sei fatto le persone giuste appariranno nella tua vita non sarai mai un lupo solitario per sempre hai qualità che solo pochi riescono ad ammirare perché la maggior parte non si rende conto di possederle hai forza coraggio determinazione solo pochi riescono a capire perché la maggior parte non ha mai vissuto veramente quindi non arrenderti non accontentarti non abbassare le tue aspettative per adattarti al mondo sei nato per essere tu il creatore della tua vita per rinascere per risalire dicono che il lupo sulla collina non sia mai affamato come il lupo che si arrampica sulla collina ora puoi essere quel lupo che si arrampica sulla collina sempre affamato sempre più affamato dal desiderio di crescere per nutrire la tua mente e salire al livello più alto evita di guardarti indietro sempre semplicemente verso la vittoria verso il tuo successo personale guarda sempre avanti qualunque cosa tu faccia continua il tuo cammino e ricorda meglio essere soli inseguendo quello in cui credi piuttosto che seguire il greggio seguire le persone che desiderano deviare la tua direzione mantieni la tua forza resta forte fai la differenza il tuo destino nelle tue mani esci e vai a caccia delle nuove opportunità vai a caccia del tuo successo personale da oggi tu puoi rinascere ti auguro tutto il meglio